Nato a San Pietroburgo da genitori tedeschi, Sascha Schneider si trasferì a Dresda per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Oppositore della pittura accademica, amante della pittura simbolista, amico di Zwincher e di Unger, certamente nella sua vita in Germania soffrì moltissimo e venne perseguitato a causa della sua omosessualità, tanto da trascorrere dei lunghi periodi anche in Italia a Firenze. In quest'opera che noi vediamo, un'opera di dimensioni immense per la prima volta in Italia che proviene da una collezione privata, il trionfo delle tenebre, un demone dalle grandissime ali, dal volto barbuto, dal sorriso sardonico, sta sopra quello che è un Cristo deposto, morente, che ci ricorda il Cristo di Hans Holbein. Sicuramente il rapporto con la cultura, diciamo, del fisico, con l'erotismo di questa figura demoniaca, è molto forte in quest'opera. Sascha Schneider è anche influenzato dalla filosofia di Nietzsche, in quanto non sappiamo se il Cristo risorgerà oppure no. Sembra proprio che questa volta a trionfare siano le tenebre. Grazie a tutti. Grazie.